Innanzitutto il mio augurio forte va a tutta la città di Acerra, in modo particolare a chi soffre, ai meno abbienti, ai malati e a tutti gli acerrani, anche quelli che giorno per giorno lavorano portando a casa il proprio stipendio, di persone normali che cercano di affrontare l'odierna realtà. Un saluto particolare inoltre, lo faccio, a questo ente che con i lavoratori tutti, con i dirigenti, con i consiglieri tutti, con la mia giunta, tutti siamo protesi a risolvere i problemi della nostra città. L'augurio forte è quello di fare in modo che questa città evolva nel benessere in cui tutti quanti noi aspiriamo, in un benessere che deve tener conto quindi di tutti e dare a ognuno la propria possibilità. Io quindi vi lascio con un abbraccio forte e dico viva Acerra, viva la Acerrana, che peraltro sta ottenendo degli ottimi risultati, ma con un abbraccio intero io voglio stare vicino a tutte le famiglie della città.